Pullman parcheggiati in zone inadeguate ed è caos. Intervento di Antonio Loconte. Siamo una città turistica che non riesce a far fronte alle esigenze dei turisti. I pullman vengono letteralmente parcheggiati in zone inadeguate. Abbiamo la fortuna di avere una città spettacolare che continua ad attirare il turista anche in giornate non festive. Ma non siamo in grado di sfruttare tale fortuna. Il biglietto da visita è imbarazzante. Mi chiedo, scrive e conclude Antonio Loconte, se l'amministrazione sia consapevole della propria inerzia che dura ormai da più di due anni, senza alcuna iniziativa, volta a risolvere i problemi della città. Pullman parcheggiati in zone inadeguate ed è caos. Intervento di Antonio Loconte. Siamo una città turistica che non riesce a far fronte alle esigenze dei turisti. I pullman vengono letteralmente parcheggiati in zone inadeguate. Abbiamo la fortuna di avere una città spettacolare che continua ad attirare il turista anche in giornate non festive. Ma non siamo in grado di sfruttare tale fortuna. Il biglietto da visita è imbarazzante. Mi chiedo, scrive e conclude Antonio Loconte, se l'amministrazione sia consapevole della propria inerzia che dura ormai da più di due anni, senza alcuna iniziativa, volta a risolvere i problemi della città. Grazie.